Buongiorno da Rossana Prezioso, della redazione di Trend Online e benvenuti al quotidiano appuntamento con Piazza Affari in tre minuti, l'incontro di metà seduta per fare il punto sulla situazione. Torna l'ottimismo a Piazza Affari e un po' in tutta l'Europa, con le borse che scommettono sulla ripresa, soprattutto dopo i dati pubblicati sul prodotto interno lordo per i vari stati europei. Ma procediamo con ordine. Piazza Affari apre direttamente in territorio positivo, a 23.172 punti con un più 0,3% che a mezzogiorno diventano 23.360 punti su più 1,11%. Poco dopo l'apertura delle contrattazioni lo spread segna 117 punti e il rendimento sul decennale registra 1,85%, con il secondo che alle 12 resta praticamente intatto a 1,87%, mentre si deve evidenziare un sensibile calo per il primo a 113 punti base. Un ottimismo, si diceva, che riguarda un po' tutte le piazze d'Europa, le quali già dalle prime contrattazioni partono in positivo, con un più 0,34% per Londra a 6.957 punti che alle 12 diventano 6.981 con un più 0,7%. Il DAX di Francoforte a tarda mattinata segna già 11.560 punti con un rialzo dello 0,7%, mentre in apertura registrava 11.513 punti e un più 0,36%. Lo stesso trend si ha su Parigi che arriva a 5.037 punti con un più 1,27% che in apertura erano 5.000 e un rialzo dello 0,55%. Tra i titoli da monitorare a piazza affari ovviamente resta alta l'attenzione sui bancari con Banco Popolare, Banca Popolare dell'Emilia Romagna e UbiBanca in seguito alle trimestrali. Mediaset, anche lei per via della presentazione dei conti, particolarmente apprezzati dagli analisti, i quali però temono il tasto dolente della raccolta pubblicitaria. Anche Saipem sotto l'occhio degli analisti e Moncler che partono entrambi già in forte rialzo all'apertura delle contrattazioni, mentre si registrano acquisti anche su Salvatore Ferragamo. Particolarmente ampia anche l'agenda economica di oggi, con diversi impegni dei quali citeremo i più importanti, come appunto il dato sul PIL, sia italiano che europeo, reso noto alle 10, l'indice dei prezzi al consumo, pubblicato alle 11, interessante anche la pubblicazione delle minute della meeting inerente alle decisioni di politica monetaria della BCE, previsto per le 13.30, oltre alle vendite al dettaglio per quanto riguarda il mercato degli Stati Uniti e quello delle scorte di petrolio greggio, quest'ultimo previsto verso il tardo pomeriggio. Interessante sarà anche considerare il tasso di disoccupazione della Gran Bretagna, Gran Bretagna che sarà sotto riflettori anche per il discorso del governatore della banca centrale inglese Carney. Bene, questa era l'ultima notizia, anche se mi resta ancora il tempo in coda per un'ultima raccomandazione, cioè lasciare i vostri messaggi così come anche le critiche o meglio ancora idee e suggerimenti. Intanto vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando all'appuntamento per domani, sempre alla stessa ora. Rossana Prezioso per TrendOnline.com